San Donato milanese, Civil Week 2024, a pochi metri dalla fermata della metro di San Donato siamo al Bici Caffè, un luogo famosissimo in tutta la provincia, una delle primissime ciclofficine ad esempio, ma oggi siamo qui perché proprio qui c'è un evento della Civil Week, l'ennesimo evento a San Donato che insomma è un comune che ha sposato appieno la Civil Week e sono in compagnia di... Sono Doina, sono l'educatrice del progetto SAI, sistema d'accoglienza e integrazione che è gestito dal comune di San Donato e cooperativa fuori luoghi. E insieme a noi anche Andrea, giusto? Ciao, io sono Andrea, sono un fotografo freelance ma soprattutto sono un educatore. Soprattutto un educatore ma io invece ti chiedo soprattutto fotografo perché insomma la fotografia in questo caso siamo a raccontare qualcosa in cui la fotografia appunto ha un ruolo fondamentale. Esatto, per questa edizione 2024 come progetto abbiamo deciso di realizzare un reportage fotografico che racconta un po' la nostra esperienza decennale sul territorio di San Donato e in particolare la selezione degli scatti è avvenuta declinando gli articoli della Costituzione che ogni giorno valorizziamo e mettiamo in campo nel nostro lavoro quotidiano con rifugiati e richiedenti asilo. La Costituzione siamo noi, il tema di questa Civil Week ha proprio a che fare con il lavoro quotidiano che fate, voi vi trovate a rendere reali proprio degli articoli della Costituzione ogni giorno? Lo facciamo sì, per esempio accompagnando la formazione al lavoro, articolo 32 per dire, supportando il lavoro e la legalità intorno al lavoro, articolo 4, oppure l'istruzione, non lo so, il supporto durante tutte le fasi della sanità, ok? Cioè tutti questi supporti sono, come esplicitiamo in maniera pratica, la Costituzione e gli articoli fondamentali. Sì, articoli e diritti poi che servono e con cui voi lavorate ogni giorno, io poi però mi sono ritrovato qua con in mano un mazzo di carte. Questo qui è un mazzo di carte che si chiama proprio La Costituzione siamo noi, ma che cos'è questo mazzo di carte? Chi mi vuole raccontare un po' che cos'è questo mazzo di carte? Allora, oltre all'esposizione fotografica abbiamo deciso di realizzare questo gioco a tema della Costituzione. Sono delle carte che riprendono un po' gli articoli selezionati nella mostra e che vogliono essere uno strumento di aggregazione e divertimento, ma anche uno strumento di valorizzazione appunto di quello che è la legge più importante del nostro paese. Infatti ci sono carte, eccole qua, le faccio anche vedere a chi mi sta seguendo in video, per chi si segue in radio un po' di immaginazione, ma comunque troverete sicuramente sui social. Ci sono appunto varie carte, adesso le faccio anche cadere un po' così per fare capire proprio che sono come forse delle carte da gioco, con tutti gli articoli, con alcuni di articoli da Costituzione, tra parentesi declinati a volte con delle parole chiavi, come vediamo uno facile, perché la so già in qualche lingua, lavoro ad esempio, c'è il classico job, trabaco, ma c'è anche aiki, travai, puna, bara, e poi anche lingue che effettivamente faccio un po' fatica. Esatto, perché sono le lingue in realtà con cui parlano le persone che sono accolte del progetto, tendenzialmente di origine di diversi paesi e cittadinanza diverse e lontane nel mondo. Importante nella creazione sia del gioco di carte che della mostra fotografica sottolineare la partecipazione nel processo delle persone accolte, sia durante proprio la selezione dell'immagine, quindi il coinvolgimento con loro, ossia nella parte di costruzione delle carte, nella traduzione delle immagini, degli articoli, delle parole, ma anche proprio nell'attività di oggi, in cui i ragazzi o chi ha accolto sarà proprio facilitatore del gioco. Quindi per ogni fase abbiamo pensato anche al coinvolgimento. Sì, perché oggi appunto questo gioco lo presentate, me lo fate anche sperimentare, si giocherà appunto qui a San Donato, si gioca a San Donato alla Costituzione Siamo Noi, grazie appunto a coloro che l'hanno ideato, pensato insieme a voi e quindi adesso lo espliciteranno e lo spiegheranno. Questo coinvolgimento però, se ho visto bene, non è una cosa nuova per voi, perché l'anno scorso avete fatto un evento molto simile, o meglio di partecipazione congiunta, chiamiamola così, dove avete fatto delle mappe, se ho visto bene, no? Ma quelle mappe non le avete disegnate voi, giusto? No, anche quelle mappe sono il risultato di un percorso laboratoriale che ha coinvolto direttamente i beneficiari del progetto e durante questi laboratori abbiamo utilizzato delle mappe neutre, ogni ragazzo ha raccontato il proprio tragitto, il proprio tragitto dal paese di provenienza, passando per le rotte migratorie fino ad approdare qui a San Donato e quello lì è stata la creazione della prima mappa, itinerari complessi. Dopodiché abbiamo fatto un lavoro invece su delle mappe a livello locale, punto di partenza a San Donato, individuando i luoghi amici, esattamente, i luoghi amici sono quei luoghi su San Donato che a vario titolo collaborano con la nostra organizzazione, con il nostro progetto e che vengono vissuti dai nostri beneficiari che noi preferiamo chiamare i nuovi cittadini di San Donato. E allora io ovviamente vi ringrazio tantissimo per quello che state facendo qui alla Civil Week, vi ringrazio anche per aver creato appunto un gioco di carta che fa bene se producendo, qui il rischio di addiction a giochi ed azzardo non c'è, anzi, c'è al massimo la possibilità e lo spero di diventare amanti sempre di più della Costituzione. Quindi grazie davvero, complimenti per il vostro lavoro e continuiamo a raccontarvi la Civil Week qui a San Donato ma anche in tanti altri luoghi, 422 eventi ne abbiamo da raccontare. Civil Week 2024. Grazie. Grazie.